Pensiero del giorno. Lascio cadere eventuale resistenza a ricevere, permettendo che le mie preghiere vengano esaudite. Per me è sicuro essere felice. Lavora con i tuoi angelici compagni di squadra. Noi angeli ascoltiamo ogni tua preghiera e la consideriamo un invito a fare sempre più parte della tua vita. Oggi vorremmo portare la tua attenzione sul tema del lavoro di squadra. Pensa a questa analogia. Nella palacanestro la palla viene lanciata da un giocatore all'altro, in base a quale persona è più vicina al canestro, a chi può tirare liberamente o a chi specializzato in un certo movimento. Quando preghi è come se facessi il primo passaggio della palla e noi non sbagliamo mai una presa. Mentre lavoriamo a quello che ci hai richiesto, lasciamo la palla avanti e indietro tra le dimensioni spirituali e quelle fisiche. È sempre in movimento e si avvicina al canestro, dove ti trovi tu. E quando la preghiera si manifesta ti passiamo la palla in modo che tu possa fare punto. Se ti rifiuti di prenderla perché hai paura di non meritarla, di non saper gestire il successo o per qualunque altra insicurezza, allora la palla cadrà a terra. Se sei consapevole di resistenze dentro di te, ti aiuteremo ad aprirti e ricevere. Grazie.